Sarà troppo divertente come cosa secondo me Vabbè dico Prendeteve non teleport Cosa facciamo? Io cosa devo prendere? Il macete Sì, io mi sono fatta a P Aspetta, oggetto disattivato Perché mi dice oggetto disattivato? Non hai lo smite? Vabbè, chi se ne frega Mi fai Che facciamo adesso? Farmiamo Rosso Chi se lo prende? Io non ho lo smite Io ho lo smite Allora prendo te Vai Minion, prendi i dedo Sì Dai No, non lo prendo, ok Domani qua non so dove stanno Le stiamo tipo rincoglionendo Sì Ok questo Sì Facciamo un nuovo Pusha Davis che Pusha pusha veloce No dove Ah cazzo Oh cazzo Oh mio dio Cioè era una inca Rilly Metti tipo una Eccolo Eccolo Oh cazzo Oh cazzo Oh C'è l'hai lo smite Sì S'è S'è buono Buono Via 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 Vai che c'è Questo Vai che c'è questo Oh mio dio questo si fa la torre a top eh no questo è una top vabbè Lex per intanto l'abbiamo preso di quello vabbè la tua torre è stata distrutta ci ha scoperti quel pensiero secondo me dovevamo tipo rimanere nel cespuglio magari però non potevamo immaginare che cavolo potevo bella vai no peccato madonna ho preso una trappola perfetto finchiamo agari buono guarda vediamo che c'è il fin dei due cavalli aspetta ce l'ho 2000 niente c'è mi si è alzato proprio di brutto e adesso ovviamente scende no? che stronzaggio si è alzato proprio di brutto e adesso ovviamente scende è una mano una mano una mano sono qua sono qua arrivo arrivo l'ho calciata proprio violenta no ho fatto una cazzata no mamma vabbè senza il teleport il drago dopo il drago che è importante il drago che è bloccato non mi fa muovere cazzo ce la fai? gatto? sono scappato sono scappato sono scappato oh mio dio e gli ho preso pure le rosse andiamo cappieri del mondo non ho neanche il drago si non ho il drago non ho oh shit oh due kill abbiamo fatto eh si ma loro però si sono fatti eh vabbè dai eravamo in due contro quattro eh dio cristo sono in quattro oh dio ma la fai mi li ho ucciso yeee yeee come è possibile oddio oddio c'è cosa oh c'è tanta gente eh no cazzo ehm come? ciao trollaati 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 trolla trolla bombotroll non ci vincere tu cazzo di me alba alta eh aspetta c'ha lo scudo c'ha lo scudo e me vale appena lato eh ok eh non me posso duncare ma sei da dei pezzi di me alba eh tripla di kata vai c'è la nerf c'è la nerf come già la dovrei dire vai vai fatela ahahah 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 tre aspetta due uno la prendo io eh c'è di sin eh c'è di sin eh c'è di sin eh non la prendo ti aveva pure la volta un allegatista tu c'è minchia però cazzo mamma mia si sa come fa a correre più della mia età ah 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 suicide mode ah succhiate ah invece ce lo facciamo eh no eh eppure ah oh cazzo troll aia io posso io sto arrivando se ti serve che cazzo è successo help oh mio dio no no puratemi grazie 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 vi devo la vita letteralmente io io no no io aspetto la cazzo oh oh massive damage madonna la torretta di di emmerdinger che mi ha ucciso ma guardati oh cosa ha ucciso kitty cosa what sono i massi ma che cazzo ma che cazzo ah madonna cazzo era perso sto teamfight devo andare top perché tenete lì tenete lì mid andateci contro non so fate fate quel che volete eh già sta partendo eh lo so vabbè eh tre minuti e c'è il drago mi raccomando venite da me vieni attento si eccole stanno utili regala vincica ciao 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 eh vabbè cazzo via via oh my god incredibile signori incredibile attenzione devix devi fare qualcosa devi fare qualco cazzo è un'anerchia non sai che muo che ci fai ci sei morto come ti ho stunnato con la prossima libro croll oh l'esplazio oh l'esplosa quel pezzente di merdinger vai non le abbiamo dato il tempo di salla final l'inibitore che si carica di un barro di tento devix no hai crashato ma che cazzo buono buono da noi faccio la tua mano ecco adio adio star adio star scuri scuri oh oh avevo il teletrasporto potevo andare top se lo livo vai dai vix oh bello vai 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 hai usato la W non puoi scappare non puoi scappare veloce devo prendere qualcosa che fa danno vabbè ci penserò più tardi dai qualcuno vado to vai rimerdillo ahahah ha detto un retizzo oddio no ma per quanto dura dopo che è morto ma sempre dura no per me la brutta idea via via di qui via di qui via proprio ma proprio via via proprio c'è una guarda qua dai no grazie lisina 200 milioni 200 milioni nooo se lo sono fatto loro no veramente l'ha stillato ma io ho smaitato perfetto cazzo non l'ho presa sennò era morta in unens mañana via via suggestions via via no vai via NO stavo'auto nella fantastica cazzo ecco abbiamo trovato Che vuoi usare? Ok Ma che cazzo hai chiesto Davide? Grazie a tutti